Qualche use case di nostra esperienza nel settore manufatturiero di costruzioni di macchine che hanno dotato la tecnologia OPC UA. Quindi in questo caso qui ci riferiamo ad esempio ad un costruttore di macchine per l'imbotegliamento e l'etichettatura che utilizzava PLC di brand diversi con protocolli di comunicazione proprietari e Modbus. Le sfide aziendali erano di unificare le apparecchiature sotto un unico protocollo standard per realizzare l'integrazione orizzontale, quindi tra più macchinari, ma anche integrazione verticale con il gestionale. Altri fattori che hanno portato la scelta del protocollo OPC UA sono stati per la sua semplicità di implementazione e anche per l'apertura a future integrazioni e naturalmente una cosa importante è stata per la sua sicurezza intrinseca, come abbiamo visto il fatto che la possibilità di poter gestire la criptografia e lo scambio dei certificati con lo standard X509, appunto per realizzare la convergenza in totale sicurezza tra il mondo IT e IT.